La violenza di genere è un fenomeno che purtroppo è drammaticamente in crescita troppi e tanti femminicidi. Quello di Giulia Cecchettin ha sconvolto l'Italia il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza di genere. Nella sala della Costituzione della provincia di Campobasso l'argomento è stato analizzato sotto più punti di vista, la tutela giuridica, l'investigazione e la prevenzione. L'assessore comunale di Campobasso, Luca Praetano, ha parlato della volontà di riaprire il centro di ricerche e studi criminologici e criminalistici nel capoluogo. L'intenzione è quella di creare un centro di ricerche e studi sui fenomeni criminologici e criminalistici, questo perché abbiamo intenzione insomma da un lato di approfondire i vari temi grazie anche a una collaborazione con l'università con cui stiamo cercando di chiudere quindi una convenzione, poi sarà aperta ovviamente a tutti i soggetti che vorranno partecipare sul territorio affinché la rete sia utile allo scopo e poi ovviamente raccogliere informazioni scientifiche che ci diano la possibilità di affrontare i fenomeni con consapevolezza. Il presidente della Camera Penale circondariale di Larino, Roberto D'Aloisio, nel suo intervento si è soffermato su aspetti di natura giuridica. Oltre gli strumenti legislativi sono necessari strumenti educativi di formazione che non possono essere rimessi esclusivamente alla famiglia e alle scuole perché sarebbe un peso troppo elevato, tanto più che molto spesso arrivano delle controspinte della società che soverchiano questi principi e questi valori fondanti. Puntuale è dettagliata la relazione dell'avvocato Nicolino Cristofaro che ha spiegato cosa sono le prove dichiarative e le criticità delle stesse. Le prove dichiarative sono le dichiarazioni della vittima che possono essere maggiorenni o minorenni e le prove testimoniali sul punto. In molti casi, in molti processi di violenza di genere, tipo violenza sessuale, maltrattamenti oppure molestie, noi abbiamo solo la prova dichiarativa della persona offesa e quindi questa deve essere poi sottoposta al vaglio dell'attendibilità dinanzi all'autorità giudiziare e quindi non ha altri discontri e quindi è fondamentale che questa prova dichiarativa venga raccolta con la massima applicazione della norma per evitare ogni dubbio e supera poi il giudizio di attendibilità sul principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. La sociologa e criminologa, presidente dell'Associazione Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi, ha parlato degli errori investigativi durante la ricerca delle donne scomparse. Individuare immediatamente il pericolo e la possibilità che una donna sia vittima di un crimine piuttosto che di una fuga volontaria può costituire la differenza. Quindi un accenno al recente caso di Giulia. Abbiamo visto quanto in questo specifico caso anche l'aspetto tecnologico e l'attività investigativa tradizionale di raccolta anche di prove tecnologiche hanno portato poi al ritrovamento della povera Giulia. In chiusura l'intervento registrato del generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS Carabinieri di Parma. Se da una parte gli omicidi convenzionali sono stati contrastati così efficacemente che cosa si è fatto per la violenza di genere? Violenza di genere che già nel 1993 l'Organizzazione Mondiale della Sanità definiva come un problema di salute pubblica e già segnalava che la violenza di genere uccideva, quindi il femminicidio, uccideva molto di più del cancro o degli infarti.